Ciao a tutti, sono di nuovo io e vi voglio presentare il quadro cosciente, perché mi piace tanto. Siti l'albero. Mi piace perché mi fa ricordare un pochino di natura, l'ora che vuoi. Mi piace anche perché mi fa dimenticare quel buco di rosso che ha carato un uomo, che si non torna subito. Ciao, ciao.